musica eccoci qua ragazzi ben ritornati sul mio canale mi raccomando belli attivi siamo qua con la sesta parte la quinta ho appena finito di registrare ve ne sto caricando due la terza e la quarta mi raccomando faccio riferimento a prima fatemi sapere cosa pensate del breve video introduttivo che ho fatto nell'episodio 5 perché è importante io come vi ripeto mi sono rotto le balle almeno di come si comporta io direi di usare l'arco per non farci sentire ok uno è andato gli altri non li vedo non lo vedo però se vado per logica eccoli là con calma Antonio con calma calma to incendiati bastardo piromano la il No, no, no. lo prenderemo mai bo prenderemo mai prenderemo mai prenderemo mai prenderemo mai allora, momento buono vinta, vabbè era questa secondo me l'unica soluzione andarsene pure qua non c'è niente che ci salva ehi, ehi quanti sono? shhh, solo una, dall'ultima nave ehi brutti camperoni qua 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 cos'è? questo, questo questo, questo una moneta no scusami fratello che cosa? ahhhh che cosa? no no non lo so, comunque veramente lo trovo abbastanza difficile mirare rispetto agli altri Tomb Raider non so voi si, magari sei tu che sei Nabbo probabilmente, potrebbe essere ecco qua forse devo andare qui, no? allora questo bunker seconda guerra mondiale giapponese ma non doveva disattivare la? non lo disattivare tranquilli, quanti erano i nuovi navi? andare la, come si dice? fare il ponte con il segnale radio eh, troppo di merda piano, antenne è pieno di carburato già eccole a cosa serviva? il generatore dell'antenna e come facciamo a portarlo su per le scale? bella domanda scoppierà quel barile lì? grande questa si che mi piace un po' grande dalla musichetta secondo me, ragazzi è finito ok qua 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 c'è una cassa andiamo a prendere la cassa perfetto anche qua vai 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 damme vuol dire che migliora le armi negli accantoni ah, ho già preso così perfetto qua qua non c'è niente c'è niente qua qua niente qua niente sto con la cagata Lara wow grazie scusatemi io non volevo le manichette per farle pompo perfetto qua? no c'è niente qua? non c'è niente ma... vieni sempre a comportare così tu con la gente eh ma per questo sto andando ma è perché la devo lanciare? devo fare qualcosa? aspetta, dobbiamo fare qualcosa in particolare qua? devi vedere no no, eccola sopra allora questo vetro qua su, devi vedere questo cos'è? panna non puoi scappare, straniera! ma chi? ora ti guarderò, Cretara ma è tutto inutile perché è finita dove vai? ok era il minimo ragazzi secondo me era così, infatti non mi sono sbagliato mazza che botto mamma mia è zavato proprio male, è zavato ragazzo stai no minchia mi dispiace fratello vai vai cos'è cos'è cos'è? la capa clausi bello sto fucile non voglio soffrire no non vuoi soffrire? ciao wow non mi rompere più il coglione adesso si ragione perfetto oh ragazzi non volevo più soffrire quindi non ditemi niente allora ah no qua è da dove sono arrivato quindi 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 devo andare di là eh allora qua è tutto a posto ho fatto tutto insomma allora quindi vediamo l'inventario che arma è? perché non me lo dice? questo è l'arco questa ne ho 58 colpi 50 della pistola e 30 dell'arco allora proviamo un attimino ragazzi allora opzione di gioco ecco cosa non ho fatto non vi ho messo i sottotitoli questo non ho fatto aspettate sottotitoli tastiera e mouse no gameplay sensibilità mira devo alzarla un po' opzione di gioco dove è? gioco difficoltà volume musica proviamo a togliere la musica ragazzi perché io non voglio che mi chiudano il canale perfetto niente ragazzi 20 minuti di video e anche per oggi basta così eh si perché altrimenti siccome non ho molto tempo purtroppo adesso non ho una buona connessione adesso che mi permetta di che ne so fare i video un po' più lunghi e caricarli quindi ho un quarto d'ora 20 minuti massimo massimo quindi magari ne faccio più di uno al giorno così riesco riesco a compensare questa cosa da poi la prossima settimana che mi entrerà Fastweb e tutti gli effetti non ci saranno problemi e che purtroppo anche loro si prendono i loro tempi se questa serie vi sta piacendo lasciatemi un like e un commento ci rivediamo nel prossimo episodio e a breve con qualche novità ciao ciao